Radio ISAB Si avvertiva una sensazione di aviazione, di aereo perché siamo arrivati al momento della nostra rubrica curiosità dell'aeroporto Oggi non c'è donato il benvenuto ai nostri microfoni a Jonathan Jonathan buongiorno Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio ISAB Grande Jonathan, allora tutti occupi di safety e compliance quindi di sicurezza e della rispondenza alla norma quando riguarda il gestore aeroportuale Ottimo, ottimo Jonathan Oggi ci sei tu qui perché dobbiamo parlare di una di quelle fissazioni mentali che noi passeggeri prendendo l'aereo abbiamo sempre io, i miei amici, tutte le persone che conosco perché dobbiamo farti questa domanda parliamo di bagagli Jonathan, ma è vero che se io dovessi mettere il bagaglio e imbarcarlo per ultimo poi lo riprenderei per primo all'atterraggio? Allora, devo dire per la mia esperienza passata assolutamente non è così non è così perché, anzi, magari è il contrario e la probabilità maggiore è che se effettivamente lasciamo il bagaglio per prima lì all'accettazione al check-in noi comunque sull'aeroporto di destinazione lo ritiriamo per prima questo perché? Perché il bagaglio viene messo dopo l'accettazione sul nastro trasportatore che va a finire all'interno della sala smistamento bagagli questo bagaglio viene ripreso di nuovo dall'operatore che lo carica sostanzialmente sul carrellino portabagagli e lo comincia a impilare lì sul carrellino questo carrellino poi una volta finito diciamo l'accettazione del volo di questi bagagli per la destinazione verrà trasporto, verrà preso, verrà condotto proprio sotto bordo dove verrà caricato quindi il bagaglio sostanzialmente che abbiamo caricato per ultimo sul carrellino quindi sarebbe l'ultimo all'accettazione va a finire all'interno della stiva ma sulla parte diciamo più indietro, più in fondo e quindi quando l'aeromobile arriverà a destinazione questi bagagli verranno ripresi dall'operatore che si troverà sull'aeroporto di destinazione verrà ricaricato sul nastro, verranno ricaricati sul carrellino e quindi l'ultimo bagaglio diventerà il primo che è sul carrello impilato sulla parte superiore e quando si arriverà sul nastro a scaricare questo bagaglio risulterà per primo quindi la percentuale del bagaglio caricato e accettato per primo è maggiore di recuperarlo prima sull'aeroporto di destinazione vedi Jonathan intanto hai sfasato un mito perché noi diciamo andiamo all'ultima ora carichiamo il bagaglio per ultimo per poi riceverlo per prima all'atterraggio non è assolutamente così no Jonathan tu ci hai detto che è il contrario sì poi chiedo scusa Lorenzo volevo precisare una cosa questo magari può capitare negli aeroporti minori dove effettivamente ci sono aeromobili che hanno la possibilità di caricare bagagli sfusi all'aria infusa dentro le stive poi diciamo il discorso può cambiare se gli aeromobili sono configurati in maniera diversa e diciamo i bagagli vengono caricati, sono un po' più grandi quindi i bagagli pallettizzati diciamo così sono caricati i bagagli all'inizio sono caricati dentro un contenitore molto grande contenitore grande, sagomato che prende diciamo la forma della stiva dell'aeromobili che poi verrà caricato e inserito all'interno della stiva e lì il discorso magari può cambiare però a livello di probabilità è più probabile che se lasci il bagaglio per primo poi lo puoi recuperare per primo sull'aeroporto di destinazione perfetto, allora una seconda domanda e poi chiudiamo che potrebbe essere ampissima potremmo parlare certo, assolutamente sì tre giorni di fila Jonathan, perché si perdono i bagagli? e soprattutto qui all'aeroporto internazionale d'Abruzzo mi hai confessato del fuori onda che arrivano tanti bagagli da Pisa ma perché? sì, assolutamente sì arrivano bagagli da Pisa perché come possiamo un attimo immaginare il codice triletterare del nostro aeroporto è PSR il codice triletterare dell'aeroporto di Pisa è PSA quindi molto probabilmente ragazzi e operatori che si trovano a lavorare nel centro svistamenti di bagagli di qualche aeroporto di partenza magari possono confondere nel dividere i bagagli per destinazione possono confondere il triletterare di Pescara PSR con il triletterare di Pisa PSA e questo è un motivo per cui appunto rispondo alla domanda che precedentemente mi hai fatto è un motivo per cui i bagagli possono perdersi magari non arrivare nella propria destinazione perfetto allora intanto Jonathan ti ringrazio perché la prossima volta magari con te andremo ad approfondire il tema di come poi si vanno a recuperare i bagagli perché questo è un altro discorso infinito quindi allora la settimana prossima parleremo proprio di questo se qualcuno vuole approfondire anche le questioni che abbiamo chiesto a Donato nelle scorse puntate può farlo sul nostro canale YouTube Radio ISAB curiosità dall'aeroporto trovate sia Donato ma anche Jonathan grazie ancora ciao a tutti ciao a tutti Radio ISAB Radio ISAB